Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo indietro al 1990 quando uscì il film Darkman, diretto e scritto da Sam Raimi con protagonista Liam Neeson. Ne parlo con Pierpaolo Bonelli, ciao Pierpaolo. Buongiorno Giulio, 1990, effettivamente sembrava più recente ma ormai è un po' così, stiamo perdendo un po' il senso del tempo e dello spazio. Sono passati parecchi anni da un film che non ebbe un grandissimo successo, però qualcosa ci ha lasciato. Sì, assolutamente, in Italia uscì l'anno dopo per esattezza, nell'estate del 91 erano anni in cui i film in Italia arrivavano molto dopo, non in contemporanea. E' un film che ci ha lasciato un segno, personalmente per due motivi. Uno perché è un film a suo modo che anticipa quello che poi vedremo su grande scala nello Spider-Man di Raimi. E poi perché è a tutti gli effetti un film su un supereroe ma visto in modo cupo, negativo e anche abbastanza ambiguo. E poi aggiungo c'è un Liam Neeson allora sconosciuto ma che era già un grande attore. Sì, un film importante per tanti versi ma soprattutto cos'è che racconta lo stesso? Allora, il film racconta la storia di Peyton Westlake che è un brillante scienziato che sta compiendo degli studi, delle ricerche su una particolare operazione plastica. Nel senso che lui sta studiando un modo per una nuova frontiera di chirurgia estetica, per quelli che subiscono danni gravi e quindi rimangono sfigurati. E lui è appunto come detto un brillante scienziato. Succede che è l'inconveniente perché un giorno la sua fidanzata Giulia lascia nel suo laboratorio un documento importantissimo che racchiude dei segreti su un malavitoso che la fidanzata seguiva in quanto avvocato e questo documento deve essere recuperato assolutamente. Allora cosa succede? Dei criminali di questa organizzazione entrano nel laboratorio di Peyton nel momento in cui lui sta lavorando, lo massacrano proprio di botte, tra l'altro con delle scene molto cruenti e bruciano il laboratorio. Lui per l'esplosione viene lanciato proprio fuori dall'edificio e mezzo morto cade nel fiume. In quell'istante arriva un corpo, un'ambulanza che lo recupera totalmente sfigurato ma non muore Peyton e in quel momento nasce un nuovo Peyton perché essendo completamente sfigurato per sopravvivere fanno un'operazione estrema ovvero gli recidono i nervi del cervello. Quindi Peyton diventa un uomo totalmente insensibile che sviluppa però dei lati molto negativi, una forza incredibile e direi pochissima razionalità, tutto violenza e istinto. Ma Peyton vuole riprendere i suoi studi per cui torna nel suo laboratorio ridotto a Brandelli e vuole vendicarsi. Vuole vendicarsi di chi ha commesso questo efferabile gesto e inizia la storia di Darkman. Una storia che è originale, come dicevamo appunto all'inizio, scritta da Sam Braimi, poi insieme a un po' di amici e collaboratori, e che poi è diventato anche un fumetto perché all'interno, come dicevi, ci sono tutti i topoi del supereroe o dell'eroe dark, insomma di un eroe che malgrado suo lo diventa. Tant'è che poi negli anni 2000 questo film è stato ripreso ed è diventato un fumetto, edito non dalle grandi case editrici tipo Marvel, DC Comics e così, però è diventato un fumetto di quelli da supernerd. Sì, assolutamente da supernerd. E che nel suo piccolo ha avuto un buon successo di pubblico, addirittura ha avuto anche dei sequel, addirittura due, visti e dico abbastanza dimenticabili, sono onesto, diretti da altri registi, quindi insomma per cavalcare un po' il successo. Ed è un film secondo me comunque interessante, soprattutto in un periodo in cui il cinema supereroistico tentava una strada, perché siamo negli anni 90 e in quel periodo c'era qualche film che tentava di tracciare un nuovo percorso. L'anno prima era uscito Tim Burton con Batman nel 1989, però è stata un'eccezione. Mentre altre produzioni, mi ricordo sempre allo stesso periodo, un Captain America, un Fantastic Four di Roger Corman, insomma, era un film abbastanza dimenticabili, anche se per chi ama il genere ti rimangono dentro. E Sam Raimi aveva fatto un po' anche a suo modo un'eccezione. Poi è vero, il film è scritto anche da amici e ricordo anche la collaborazione col fratello Ivan Raimi con il quale poi scriverà anche la sceneggiatura di Spider-Man e dei tre capitoli di Spider-Man di inizio anni 2000. Il film non è un film indimenticabile, però ha un suo fascino. Ho visto anche a 30 anni esatti di distanza, ha ancora un suo perché. Poi è anche carino ricordarlo perché nel finale di Darkman compare il suo attore feticio Bruce Campbell che era stato protagonista qualche anno prima con la saga La Casa e che tre anni dopo tornerà a interpretare Ash nell'Armata delle Tenebre. C'è anche una comparsata di John Landis all'interno del film che fa una piccola parte, però lascia anche lui il segno. Ritornando a parlare delle influenze, dei tentativi del cinema di entrare nel fumetto e di portare poi il fumetto sul grande schermo, non bisogna dimenticare secondo me quell'operazione maestosa ma dal punto di vista produttivo e poi dal punto di vista del risultato abbastanza risibile che fu Dick Tracy di Warren Beatty con la fotografia di Vittorio Storaro, insomma c'era un cast... Madonna. Madonna, lo stesso Warren Beatty, insomma. E quello fu un esperimento notevole che non ebbe un grandissimo successo ma ebbe un impegno produttivo mastodontico. Spendo le ultime due parole su Liam Neeson che in un film piccolo comunque dimostra, non essendo ancora famoso, delle grandi capacità di cambiare il personaggio, il tono di recitazione nelle varie sfumature che ha Darkman perché Darkman, come dice il finale del film, una delle mie citazioni preferite io sono tutti e nessuno io sono Darkman. Ecco, anche Liam Neeson con la sua recitazione riusciva a essere un po' chiunque perché era Darkman in versione Hulk, diciamo per rimanere nel mondo dei fumetti, cioè violento, brutale ma anche in un certo senso ironico e romantico perché comunque lui mantiene un ricordo verso la donna che amava che era Julie con la quale non vuole però riprendere una storia d'amore perché sa che il suo nuovo status di Darkman non è più quello che Julia ricordava e quindi non vuole essere per lei un pericolo e lo trovo una cosa molto molto affascinante per un film piccolo ma che consigliamo di riscoprire o se non l'avete mai visto di vedere per la prima volta. Non dimentichiamo che però a fianco di Liam Neeson abbiamo un'attrice che poi diventerà premio Oscar, ovvero Frances McDormand. Hai assolutamente ragione, è vero perché l'abbiamo vista anche di recenti tre manifesti a Ebbe, Missouri. Per Riders of the Lost Film è tutto, come sempre ti ringrazio per Paolo, ciao a tutti e alla prossima!